Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo, aspetta che arrivo La porta è aperta Vai, che cadera qui Mamma mia, mamma Aspetta che arrivo Uh, tempo in tempo che l'ho salvato Aspetta, c'è questo qua che morirà Buonissimo Ma forse Che cosa? M'hai trovato? Perfetto Aspetta me Non l'hai detto che si può dire di sotto? Oh, andiamo a vedere raga Se riusciamo A far funzionare Se non me l'hanno già, fidala E che cacchio, questo c'è se sta a comprare molto Adesso Posso Buono, le sacche Vediamo le sacche, va? Benissimo, le sacche ci piacciono Le sacche sono belle Le sacche, le sacche ci costano Le sacche ci costano Le sacche sono molto piacevoli Attenzione Prendi questo, e questo, e questo Sono mio, non c'è sattenti Come qui Via Cacchio Bello Rischiato di brutto Via 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 Qui Vanno va Quei Bon C'è? Che è? Non ce l'hai? Oh la K12 Beh La K12 c'è questa C'è stava pure la M1 Irons La M1 Irons è che cacchio la Iniziamo qua Ah ma qua mi sembra Tipo la versione Qua io con la K12 Sembra la versione La sento con una cadenza Guarda rispetto alla versione normale Iniziate Dai Quasi ti sparo Sembra completamente Diverto Dai Dai Tu copri del là io copro del qua Eccolo Oh 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 Distrapazzo Qua è chiuso Dai Ma dipende molto bene ragazzi Molto bene sento ancora rumori però ok vediamo un po' se stiamo portando la cosa vai oh che avevo visto questa che cos'è oh l'IMR è meglio delle sacche ma quanto funziona se stanno fanno i suoi infinite cacchio bello stavo a ricaricare munizione infinite invece non serviva bello l'IMR sbacca l'IMR mi sentava molto su quel piacere vai forza aspetta aspetta bravi così raga bravi così vorrei una prova qualche altra arma ma solo le prendevo se sono migliori della K mamma mia ma come stanno arriva al mondo non arrivo ok perfetto sono una prendessa torrezza però non me le vorrei spiegare questi soldi segreti vorrei provare altre armi muore mi sono andata a chiudere qua non è manco male aspetta vai un po' sosta vennerò guarda mi piaccia quanto parola non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è mi piace maia via via forza forza non fai no dai non prendermi mentre ricarico mannaggia 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 spregato mi posso sprecare tu oh meravere bello di papà questa non funge abbiamo labbra 3 là quello che è mezzo morto stanno tutti gli altri ecco insomma che cacchio si è messo a posto allora dammi a vedere io direi di potenziare se sei d'accordo come l'IMR raga che secondo me spacca ok iniziamo la k tranquilli nei momenti di difficoltà non amo dei costi allora dopo vorrei andare a mettere pure che s**chio è una miseria cacchio mamma mia quelli rompono proprio l'anima Ok, via da qua, via da qua Ahia! Perfetto, mamma mia! Ok, ti rianimo, vieni da me, perfetto Dai, vieni fuori, vieni fuori Oh, no, vieni, vieni Sì! Vieni, vieni, vieni La sicurezza l'hanno attivato, grazie Poco a te la diretta dell'armeria Aspetta che vado qua Vado a prendere la torretta che ci servirà Queste cose almeno, torretta lancia razzi a te Bene, perfetto Benissimo Morite EMR, spacca del brutto Non ti serviva Namu, 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 quanto costa? Scorta E' un po' come funge Scorta 2.000 Rava seria, finalmente Oh Fuori Piacchio Per noi Dai Oh Fuori Perchè? Quello che sta a fa? Quello sta a... Utilizziamo un bug E' un gestiamo qualcosa che fa Un'esplosione di potenza Un'esplosione di potenza La voce del computer somiglia a quella di Oz Ma che cazzo? Oh, zitti Il cauterizzatore S3 Che bello Andiamo a vedere se entriamo qualche altra cosa Cos'è? Eccola! LZ 52 Limbo Bellissimo L'abbiamo trovate tutte e due Cauterizzatore Più Mamma mia Non c'è ferma più nessuno ragazzi Non c'è ferma più nessuno Sto a giocare Fino a dopodomani Allora ragazzi Tutto è iniziato a new battle Mamma mia che bello Che bello Che bello Che bello Che bello C'ho tutto C'ho C'ho Cell 3 e LZ Limbo C'ho tutto C'ho fomentato come non mai Forza Siamo quali Eccola bene Eccola bene Eccola bene Eccola bene Allora Allora Fra un po' su LZ 52 C'ho C'ho Cacchio fa Ma che me spara? Che bella è? Ma che bella è? Aspetta Aspetta Forza Siamo quali Accolpiti però va Che figata Trenti sbappole Con sondata E' tipo Decapita Oh Però c'ha poche punizioni Forse c'ho Sbaglio Ok Entrati ma Che figata è Eccola 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 A posto Vieni qua va Ok Abbiamo almeno Le due armi più forti del gioco Non ci dovrebbero essere problemi per difendersi Aspetta Ok Vieni qua va Prima di potenziare LZ Poi vediamo un attimo Comanda Sono gli ultimi colpi Bello A posto Oh Nel delirio Nel delirio Nel delirio ragazzi Andamolo subito a potenziare va Anche perché Ci sono finite già le munizioni qua Ha bisogno di una ricarica Mamma che bello Mamma che bello Mamma che bello Niente Oh Ma adesso ammazziamo un colpo Ce le potenzieremo tutte e due Ma vorremmo potenziare pure un po' Le abilità Ok Sei morto Oh Quanto Ma Davvero Vaggetti Cosa i bug Molte Fingono a quando Non muoio Poi Muoio Nel senso Se quello rimane da solo Via 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 Stavo così Mi rischiammela Ricarica Uh Che quando te chiappa quello la ex Oh c'è sta qualcuno di difficoltà Namo 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 Chi cacchio da preso Ci abbiamo ancora la torretta Mi stavo a dimenticare eh Mi stavo a dimenticare ancora ci abbiamo la torretta Aspetta che arrivo Aspetta che arrivo Adesso Apposta Eh Ricarico Ma questi squali raga Ma come dovrebbero funzionare Aspetta Qua che c'era? Ah qua c'è stato il teletrasporto Ma come funzionerebbero tutti i squali? Che non l'ho capito sinceramente Qualcuno ha liberato i cani 2000 Poi ci mettiamo la ricarica Rapida raga Così almeno se noi rischiamo di morire Allora i cani dove sono? Cagnolini Cagnolini belli Venite da me Venite da papino vostro su Venite Do state Venite da papino vostro Occhio alla testa Consegna speciale Dall'orbita Bello E se muori Mamma mia quanto vorrei starma nel multiplayer raga Quanto vorrei starma nel multiplayer Si Aia Vi ha vi ha Aspetta che mi si rompe l'anima Eccolo Sicifo 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 alle spalle Ci si dà Invisibilità raga Poi direi, dato che siamo quasi vicini a 2.000, ad andare vicino alla ricarica massima, si scattiamo tutte le... tutte le... le potenze. Aspetta che qua c'è stata l'inesibilità. Potremmo disegnare il potente che questa roba sarebbe sprecata. Aspetro, schifo, schifo d'uomo. Andiamo a ricaricare. Schifo dei zombie. Bomba in dito. Cacchio. 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 Ci alzano giù i soldati Adelas. Tutta che camper. Forza. Buona. Provato. Aspetta. Aspetta. Forza. A bomba presa. Via, via. Ho affettato. Pomba disegnata. Bene. Oh, mi lascia andare. Che cacchio. Cacchio. Pomba di anneante. Tantissimo. Vieni, 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 vieni. Vieni da papino tuo. Fuori. Vieni da papino tuo. Vieni da papino tuo. Vieni da papino tuo. Volevo andare qua. Un po' di potenziamenti. Recavolo. Che almeno ce l'ho tutte e due. Potenziate e funzionanti. Vieni da me. sta diventando la mia preferita. Cacchio. Aspetta. E basta. Ma tutti da me state. Perché ci avete? Carenza d'affetto. Vieni, 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 vieni. Sì. È andata a penone. Ok. Bene. Recavoli. Una buona. Ma c'hanno carenza d'affetto sti zommi che sempre da me vengono a rompere l'anima. Questa. 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 Oh, eccoli. Perfetto. Allora, andiamo pure un po' di arma nuova. Ma va. Perché sennò... Vai, vai. Questa è una figata perché ci posso sparare. La gente rimane più scambizzata. Questa va. Ok. Mamma mia. Com'è. Uccide st'arma. Com'è. Uccide st'arma. E' una bruttezza. Ma voglio. So salvare i miei amici. Grandi. Grandi. Così le voglio. Siamo già al quattordicesimo e ci abbiamo un'invisibilità. Cazzo. Un errore da principiato. Un'invisibilità. Ci abbiamo. Una torretta con i razzi e tutte e due le armi più forti dei DLC. Di insomma. Secondo me. Quindi. Meglio di così. Sinceramente. Regà. Non potrebbe andare. Andiamo a mettere pure la. Ricarica. Unica cosa. St'arma. C'ha pochissime. Che cacchio. C'ha pochissime munizioni. Questa è la ruptura di St'arma. Che sennò che resto. E' una figata pazzesca. Cresce all'inferno. Oh no. Mamma mia. Oh no. 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 Guarda te. Che figata. Che poi la gente rimane più. Ma. Oh. Bene. 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 Oh. Oh. Lascia di stare. Ok. S'ha salvato tutti i miei amici. Dall'attacco zombie. Rimanete vicino a me regà. Oh. Oh. Aspetta. Forza. Forza. Via. Scusate. Scusate. Oh ma. Dai. Bene. Oh. Tocca il prossimo venire. Venite tutti. Venite. 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 Venite da me. Venite da papino vostro. Quanti. 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 Forza. Oh. Che grezzo. Tampini. Alderino. Piastanza. Allora. Fra un po' la polizia marga. Voglio provarla a te con te. Oh. Ricarica massima. Che bello. Oh. Che io faccio. Uno. Due. Vai. 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 Forza. 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 Via. Devamocci da qua. Devamocci da qua. Devamocci da qua. Via. Via. Troppo stretto. Per la pena. Per rimane a giocacce. Forza. 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 Schifo. Schifo. Schifo di zoom. Per me. Forza. Per me. Forza. Per me. Per me. Bene. In meglio. Vedi. È strano. Guarda com'è. Così è strano. Per me.